Un saluto a voi tutti, secondo giorno di questa novena all'Immacolata Concezione, seguendo il Cantico del Magnificat di Maria. Nel secondo versetto Maria dice Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Bene, Leopold de Bedenom nella Pratica dell'umiltà dice che Maria penetrava l'umiltà di Gesù, nella sua debolezza indigente, nella sua dipendenza creaturale, nel suo amore con cui amava tutto questo. E più tardi al lavoro ne contemplava la modestia, la dolcezza, il gusto per le occupazioni umiliante, l'affetto per i piccoli. Così per lei imitarlo divenne una necessità. Gesù diceva imparate da me che sono mite e umile di cuore. Bene, Maria che fu la prima e più perfetta discepola in tutte le virtù lo fu anche nell'umiltà, per la quale ha meritato appunto di essere esaltata, soprattutto le creature. L'umiltà consiste nell'avere un basso concetto di sé e quando qui dice Maria ha guardato l'umiltà della sua serva non si riferisce alla virtù dell'umiltà. Maria non poteva dire io sono umile, appunto perché era umile, ma si riferiva alla sua condizione bassa, al suo essere niente, solo che lei ne era cosciente, noi e no. Cioè Maria pur vedendosi arricchita di tante grazie più degli altri non si ritenne mai superiore a nessuno. Aveva la luce per conoscere la grandezza e bontà di Dio e per cui conosceva meglio anche la sua piccolezza. diciamo che l'umiltà in Maria lo si vede soprattutto dal fatto che non mette in luce se stessa, ma l'opera di Dio, per cui il Montfort scrive quante cose grandi e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa creatura meravigliosa, lei stessa si sente obbligata a proclamarlo nonostante la sua profonda umiltà. Ecco l'umiltà di Maria è la prima pietra preziosa che adorna il cuore immacolato e la vita della Santa Vergine ed è la prima cosa appunto di cui il Montfort parla iniziando il suo trattato. Una umiltà e un nascondimento che sono state il luogo ideale dove doveva compirsi il mistero più alto e più nascosto, quello dell'incarnazione del Figlio di Dio. E allora ascoltiamo la seconda strofa del Cantico 81 di San Luigi di Montfort. Il verbo in Dio suo padre riposa nell'eternità, nel tempo un riposo l'avrà, in te tenerissima madre, o seno che l'hai portato, della carne vestito abbracciato. E allora preghiamo insieme Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Vi do la mia benedizione per intercessione di Maria Santissima di San Luisi Maria di Montfort. Vi benedica a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.